Allora, salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono l'autrice di tutte le cose che vedete su questo canale e vi ringrazio per aver esservi iscritti e per il fatto di seguirmi. Ho visto che ultimamente si sono iscritte due nuove persone e sono molto contenta perché la bisiotteria è una professione ma è anche una passione per cui è uno stile di vita, come dicono molti, quindi è bello che ci siano tante persone che amino questa passione. Proprio per la bisiotteria e gioielli ho pensato che poteva esservi utile un tutorial che riguardasse i materiali preziosi, quindi tutti i trucchi e anche le piccole truffe che si possono trovare nei materiali preziosi e nelle pietre in generale. Insomma, tutte le cose che possono in qualche modo portarvi a cadere in una truffa. Allora, partiamo dall'oro. L'oro, voi sapete, c'è 18 carati in Italia, mentre in altri paesi è 14 come l'America, in Inghilterra c'è il 9 e negli Emirati in 24, insomma, in generale comunque noi l'oro lo valutiamo agli 18 carati. Ultimamente, essendo aumentato molto il prezzo dell'oro, molti gioiellieri, anche in molte case produttrici di gioielli, usano l'oro 9 carati. Ma spesso non mettono 9 carati, ma mettono un numero che una persona magari non guarda e che corrisponde al numero di parti di oro e le parti, diciamo, delle altre metalli con cui è fatto l'oro. Perché voi sapete che l'oro chiaramente non è tutto puro, perché c'è scritto oro 750, perché appunto una parte poi è di rame, piombo e altri metalli in genere che gli danno la solidità, perché l'oro è molto utile e quindi deve essere abbinato per essere lavorato ad altri metalli. Però più è alta la percentuale di oro, più chiaramente vale. Quindi prendendo un 9 carati, praticamente voi avete un oro che vale 14 euro al grammo rivenduto. Quindi sappiate che avete acquistato una catenina, come possono essere queste ultime catenine sottilissime, che sono magari 0,50 grammi, che adesso vi faccio vedere questa perché me l'hanno regalata, non perché 9 carati, però ecco, spesso fanno delle offerte in cui ci sono magari appunto catenine molto di basso peso e poi dei prezzi molto allettanti e dicono oro, ma non vi dicono oro 9 carati. Ecco, quindi l'errore è il cadere nella, diciamo non truffa, ma nella furbizia di mettere scritto 9 carati, mettere un altro numero che diciamo molte persone non sanno che indica la quantità dell'oro presente. Quindi state attenti quando comprate cose d'oro e chiedete sempre alla persona che mi sta vendendo se si tratta di 9 carati. Se si tratta di 9 carati io vi consiglio di non spendere soldi, perché adesso io ho guardato, ormai praticamente con 300 euro vi danno un anello ai 9 carati, quindi spendete tanti soldi e prendete un anello che vale niente e perché se andate a guardare quanto costa l'ingrosso, costa molto meno. Poi diciamo si fanno pagare la marca, il negozio e tutto quanto e alla fine arriva 300 euro. Quindi l'oro va sempre comprato, 18 carati al massimo 14. 14 se andate da comprare oro ve lo prendono ancora per oro buono, però diciamo il top sarebbe il 18 carati in Italia. Poi diciamo anche il 14 può andare bene se proprio dovete comprare e fare questo acquisto. Ma 9 carati sappiate che praticamente è come comprare l'argento, insomma sostanzialmente non cambia il discorso. Detto questo parliamo dell'argento appunto. L'argento è un altro metallo che viene spesso usato con dei trucchettini. Allora, quando comprate l'argento, se andate dal gioielliere chiaramente sarà argento 925 e lì non ci piove o se ve lo fate fare dall'orefice non vi darà certamente un argento falso. Ma se comprate sui mercatini oppure su siti e non sapete da chi comprate, stati attenti perché l'argento 925 potrebbe essere falso, ovvero c'è scritto 925 sopra, però quando lo andate a grattare un pochino una lima vedete diventa rosso, vuol dire che sotto è rame, placato, argento. E questo è un errore in cui si può accadere se non si conosce l'argento. Quindi mi raccomando non vi fidate soltanto della scritta 925 perché in India per esempio molti mettono 925 sull'argento, scusate, che è placato. Ma quindi cercate il punzone che vi dice qual è l'argentiere che l'ha prodotto e comunque fidatevi solo di persone che sapete che vendono l'oro o l'argento, insomma che sono affidabili, che potete andarli a cercare se vi hanno venduto qualcosa di falso. Se no, negli mercatini spesso e volentieri si trovano delle truffe. Oppure se comprate una catena a metro o cose di questo tipo, tagliatela a metà e guardate se all'interno della catena si vede il rame. Questo appunto se vi stanno vendendo una catena a metro, spesso e volentieri magari chi fa bisiotteria la compra e in questi mercatini o queste fiere. Ecco, prima di comprarle fatenevi tagliare un pezzettino e guardate all'interno cosa c'è. Non è detto che poi sia sempre l'argento 925 anche se sotto non è rosso perché può essere anche lì una lega. Quindi l'ideale sarebbe portarsi dietro le famose goccioline dell'acido che riconosce l'argento e l'oro. Comunque, non potendolo fare, grattatelo un pochino almeno per sapere se vi hanno dato del rame. Questo per quanto riguarda l'argento fidatevi appunto di chi veramente lo lavora, lo tratta e quindi potete stare tranquilli. L'argento 800, quello che andava di moda prima, non è un argento che dovete buttare via. È un argento che ha una percentuale minore di quantità di argento sono 800 parti e le 200 sono di altri metalli però mentre il 925 ce n'ha soltanto il 75 e per questo rimane molto più lucido però l'argento 800 non è da buttare dalla finestra perché è argento quotato. Quindi se avete delle cose in argento 800 non le buttate, tenetele e anche se vi trovate qualcosa nei mercatini in argento 800 è sempre argento buono. Passiamo a un altro argomento Passiamo ai cammei I cammei sono un'altra cosa che viene falsificata molto spesso e purtroppo i metodi per riconoscerli sono abbastanza pochi perché se uno non ha mai maneggiato un cammeo rischia veramente di prendere un cammeo falso. Comunque vi posso dire come si può riconoscere un cammeo Allora il cammeo voi sapete in genere è fatto su una conquiglia che si chiama sardonica o che è questa come vedete nella parte posteriore è marrone nella parte anteriore viene incisa e viene naturalmente bianca ora il cammeo se lo toccate è freddo non è caldo e che si è in una conchiglia potrebbe essere resina per capire se è resina potreste bruciare un punto dove non si vede il cammeo e se sentite puzza di plastica capite che è resina però ci sono delle resine molto resistenti che non prendono fuoco in ogni caso appunto per esempio in questo caso si vede benissimo che è un cammeo perché si vede proprio la conchiglia che è stata tagliata però ci sono dei cammeo incastonati tipo questo faccio vedere qua ecco vedete che è molto scuro ecco uno potrebbe pensare che non è conchiglia già la conchiglia comunque se la guardate è leggermente trasparente contro luce vedete che io metto il dito dietro e si vede il dito quindi il cammeo normalmente di conchiglia è trasparente però poi ci sono i cammei in conchiglia stampati e allora lì dovete prendervi una lente a 10 ingrandimenti che è questa lente che vi faccio vedere ora comunque vi servirà anche per altre cose per guardare i punzoni dell'argento eccetera questa lente qua a 10 ingrandimenti si chiama Gemlight 19 mm 10 ingrandimenti ecco questa lente si usa senza gli occhiali si allontana e si avvicina dall'occhio finché non si inquadra l'oggetto questa lente portatevela dietro appesa al collo perché se dovete guardare un cammeo scusate con la lente potete guardare se ci sono i cosiddetti colpi del turbulino ma anche lo scalpello che usa l'artigiano che fa il cammeo quindi quando il cammeo viene visto anche a un occhio nudo lo potete vedere che ci sono tutti i colpi di scalpello cosa che non c'è invece nei cammei falsi o nei cammei scattampati questo è un'altra cosa poi ancora le pietre semipreziose allora le pietre semipreziose ci sono tantissime pietre e premipreziose imitate quindi se non conoscete la pietra non la prendete perché purtroppo vi danno per esempio il lapislazzolo adesso è stato fatto una pasta che risulta in certi punti dorata per cui uno dice caspita allora è un lapislazzolo non è detto può essere una pasta all'interno delle piccole scagliette d'oro però non è un lapislazzolo vero quindi se non conoscete la pietra non la prendete lo stesso per esempio la malachite è falsificata molto spesso e quindi magari andatevi a vedere su internet la malachite come è fatta guardatela perché quelle false hanno delle scusate delle strisce concentriche molto ma molto evidenti che sono false addirittura mi pare di averne una qua nel mio bracciale vi faccio vedere che è una malachite falsa magari non si vedrà benissimo perché ecco vedete questa è una pietra di malachite falsa andate a vedervi su internet la malachite vera è fatta proprio diversamente sono più striate questa è proprio una pietra falsa un'altra pietra che falsificano e ho qui da farvi vedere è il turchese questo turchese ha queste venature però se voi andate a metterci il dito sopra troverete che la venatura non esiste è liscia quindi non è un vero turchese perché il vero turchese le venature ce le ha vere e poi esistono tantissime paste di turchese per cui anche qui potete cadere in errore io questo bracciale l'ho fatto con delle pietre così voler fare delle cose di grande valore però chi mi ha venduto le pietre miste mi ha dato appunto sia la malachite sia il turchese falso ma questo è normale perché siccome valgono di più quando vi danno un mix di perle magari le prendete su Amazon cioè proprio la rischio sempre di prendere delle pietre false per esempio non falsificano quasi mai il quarzo rosa che qui non c'è c'è questo che è bianco un'altra pietra che falsificano è la la corniola in questo caso questa lo è ma poi ci sono delle corniole false che hanno è un'agata trattata quindi dove anche l'agata nasce di un colore adesso viene trattata con dei coloranti per cui viene fuori di vari colori quindi state sempre attenti quando comprate le pietre semipreziose se non le conoscete a non prenderle sostanzialmente oppure a fidarvi appunto di persone che conoscete bene o che vi danno la garanzia sappiate che la garanzia è un certificato di autenticità che quindi se voi per caso doveste scoprire che vi hanno imbrogliato potete denunciare la persona in ogni caso io poi parlerò ancora di queste cose per non annoiarvi troppo perché ho fatto un po' un mix e parleremo poi anche di altri trattamenti per adesso io vi lascio ecco mi è venuto in mente guardando la mia collana l'ametista l'ametista è un'altra pietra falsificata molto spesso guardatela se è troppo trasparente se è troppo limpida sicuramente si tratta di una pietra falsa l'ametista è un quarzo e come tale è un pochino torbido non è perfettamente trasparente per cui anche qui state attenti detto questo vi saluto vi ringrazio iscrivetevi al mio canale continuate condividete e seguitemi ciao ciao